Mi chiamo Giuseppe Carucci e sono l'amministratore delegato di South Garage Motor Company. South Garage oggi è una destinazione esperienziale, un format multidisciplinare che unisce alla concessionaria Triumph Milano una serie di attività sinergiche e complementari, quindi dalla boutique di abbigliamento al bistro all'atelier per la personalizzazione delle moto. Ciò che unisce auto e moto e nello specifico il brand Triumph e Range Rover è sicuramente la cultura anglosassone, quella che gli inglesi definiscono Britishness. In realtà a mio avviso ciò che accomuna i due brand è la loro capacità di saper reinterpretare in chiave contemporanea un fascino nostalgico ed evocativo di cui entrambi i marchi sono portatori. Abbiamo scelto Range Rover Defender Art Top per la nostra attività e quindi autorappresentativa del nostro marchio, sia perché ne sposiamo i valori, sia perché a livello estetico ci sentiamo rappresentati fortemente da quest'auto e sia perché a livello tecnico ci permette di gestire in modo agevole le nostre commissioni. Visitiamo sistematicamente i nostri fornitori per caricare e scaricare materiale, componenti, pezzi di moto, lo facciamo in modo agevole, abbiamo un vano di carico abbastanza ampio, ci permette di raggiungere qualsiasi cliente o qualsiasi fornitore anche nel centro città, visto che di fatto non paghiamo l'area C. Ovviamente essendo noi un brand di lifestyle è fondamentale non fare le cose basta ma farle con stile. Per la prima volta forse che salendo su un'auto ho ricevuto delle sensazioni talmente appaganti quasi al pari di una moto, quindi è forse stata la prima volta che mi sono letteralmente emozionato come mi emozionavo quando all'epoca andavamo in giro in moto, quindi mi ha suggestionato. Grazie a tutti!